Atteggiamento vergognoso, apatico e senza giustificazioni. Le parole di coach Romeo Sacchetti sintetizzano senza giri di parole la prestazione di una VL che affonda senza attenuanti in una gara decisiva contro l'Una Hotel Reggio Emilia e che ora vede adombrarsi sempre più minacciosi i fantasmi della retrocessione. A Pesero la palla canestro reggiana vince 87-69 creando già nel primo tempo un solco reso poi incolmabile dall'impalpabile reazione dei pesaresi. In Serie B sorride invece l'Ital Service Loreto Basket che a Pesero batte Val di Cepo 75-69 concludendo l'andata della fase play-in con un confortante unplay-in di 4 vittorie su 4. Dal basket alla pallavolo la Megabox Vallefoglia conquista la prima qualificazione ai play-off della sua storia. Davanti ad un pala Megabox sold out le Tigri battono in 3-7 l'Allianz Milano che ha fatto meno di buona parte del suo sestetto titolare, reduce dalla battaglia di Istanbul ma che ha venduto cara la pelle sino alla fine. Una Megabox motivata e battagliera esulta vincendo i 3-7 27-25, 25-19, 25-22. Nel calcio terza sconfitta consecutiva per la Vis, la quinta nelle ultime sei gare per un ruolino di marcia che rende complicatissima la situazione dei biancorossi. A Sassari in casa della Torres seconda in classifica la punizione severa arriva al 93esimo col colpo di testa vincente di Diachite che condanna la Vis a ballare fra quarto ultimo e terzo ultimo posto assieme alla Recanatese. Sconfitta anche nel rugby per una Fiorini-Pesaro che si presenta fortemente rimaneggiata a Casale e perde con il punteggio di 28-7.